In merito all'incontro che si è svolto in Prefettura tra il Consorzio Momenti di Gloria, il Commissario Prefettizio del Comune di Crotone, anche alla presenza di una rappresentanza del Comitato della Piscina Bene Comune, il Consorzio stesso ha emesso un comunicato nel quale esprime il suo punto di vista sull'incontro. Il Consorzio, scritto nel suo documento, ha ribadito la necessità che il Comune, nell'emore dell'avvio e della definizione dell'iter amministrativo per l'affidamento delle strutture pubbliche, possa garantire la continuità del servizio di accesso allo sport e alla fruibilità dell'impiantistica sportiva grotonese. Il Commissario Prefettizio, da parte sua, ancora recite il documento del Consorzio, ha dichiarato che in questo momento la priorità per il Comune è quella di rientrare in possesso di tutti gli impianti sportivi pubblici, lasciando implicitamente intendere che l'interruzione della pratica sportiva per un indefinito periodo di tempo potrebbe essere inevitabile, così come del resto è già avvenuto per la piscina olimpionica. La delegazione del Consorzio, scrive il documento, ha lasciato alla Prefettura con molta amarezza per la totale chiusura manifestata dai locali rappresentanti del Governo, i quali, anziché dialogare in modo costruttivo con i cittadini, si sono arroccati sulle proprie posizioni di principio, rimandando ogni determinazione all'esito del giudizio pendente presso il Tar di Catanzaro, dove il Comune di Crotone si costituirà per rivendicare la bontà di quanto sostenuto nel provvedimento di sfratto notificato al Consorzio in data 17 gennaio del 2020.